Vanessa, ciao! Allora, Vanessa, questo brano, ciao, Vuccio, te lo dedica con tutto il cuore, te lo dedica con tutto il cuore perché mi hai detto che è pazzo il namorato di te. E bisogna essere veramente orgogliosi di questa cosa perché nel 2018 essere innamorati è una cosa rara, perché o meno tutti credono l'amore, quindi non ridere perché è sera la cosa, dopo ogni volta. Quindi bisogna apprezzare questo ragazzo che a differenza di tanti ragazzi oggi è innamorato, voi deve rendere l'amore e te l'ho stati mostrato qui veramente, quindi facciamo un grande applauso, perché dopo questo brano ti vorrà dire pure qualche cosa di speciale, ok? Ok, non ti preoccupare, intanto ti vediamo questo bellissimo brano con tutto il cuore, ok? Grazie. 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 Amore mio, da quando ti ho incontrata la mia vita è cambiata, in questi anni ogni giorno che mi ha fatto capire che sei la donna della mia vita, mi dedico questa canzone dal profondo del mio cuore. Non vedo l'ora che ti senti mia futura moglie. Adesso ti amo. Applausi! E' un valuto in chiacca di Siamo Zumano, bravo, bravo. Comunque, ti volevo dire un'ultima cosa. Allora, voglio metti a vicino. Vai, continui a vedere. Metti qua. Eh, ormai, lo sa tutto il paese che si mette con la te, no? Puoi. Right, qua. Come va? Come va. ... ... Grazie a tutti!